Parte abbastanza rilevante anche dei miei studi di questi ultimi anni, nel senso che dopo avermi concentrato in maniera pressoché esclusiva sul digitale, ho cominciato anche a studiare un po' di più e a capire un po' di più che cosa le tecnologie digitali hanno in comune con le tecnologie o con la tecnologia. Quindi credo di adesso avere una comprensione un pochino più solida di che cosa è generale relativamente alla tecnologia e poi delle specificità del digitale su cui ovviamente fin dall'inizio ero più preparato. Allora la prima osservazione è nulla di umano irreversibile, quindi quando qualcuno ci viene a dire che un determinato sviluppo, magari dovuto alla tecnologia, è ormai irreversibile e non si può più fare nulla in proposito, non stanno semplicemente constatando, stanno facendo, stanno agendo con le loro parole e vi faccio un esempio concreto. Nel mio ambito si è sentito dire, si sente ancora dire, l'hanno detto anche personaggi famosi come amministratori delegati delle big tech, la privacy è morta. Ebbene, queste persone non stanno semplicemente constatando, tipicamente chi dice la privacy è morta dice con l'aria un po' saputa dell'uomo di mondo cinico e tipicamente dicono privacy is dead, get over it in inglese, cioè la privacy è morta, fatevene una ragione. Ebbene, lo dico, mi permetto di dirlo anche ai miei studenti, chi dice questo in un momento in cui la privacy, grazie a Dio non è ancora morta, sta concretamente operando affinché la privacy muoia davvero. Quindi nulla è irreversibile, in positivo e in negativo, vale per tutto e vale anche per le questioni che hanno a che fare con la tecnologia. La seconda osservazione è che la tecnologia è politica. Ovviamente non nel senso banale del partitico, ma nel senso che la tecnologia è una componente essenziale della società, è uno dei grandi fattori che determina non soltanto il presente, ma anche l'evoluzione futura insieme a pochi altri. E quindi da questo punto di vista la tecnologia è politica per gli effetti, è politica per le forze che la plasmano, è politica perché ha un impatto sulla natura e quindi la tecnologia non è come, tendono a pensare in maniera così molto ingenua chi si occupa di tecnologia, non è un mondo a parte, non è qualcosa che capita, che le aziende tipicamente fanno e che capita, che è tutto sommato un mondo neutro, avete presente quella frase di senso comune, la tecnologia non è né buona né cattiva, dipende dall'uso che se ne fa, che è veramente il senso comune relativamente alla tecnologia, che in qualche modo esonera chi produce la tecnologia, chi la progetta, chi la produce, chi la mette in circolo. Al contrario la tecnologia, e ovviamente chi si occupa di tecnologia come sociologo, come storico, come filosofo, lo sa benissimo, è inestricabilmente parte del nostro sistema sociopolitico, non è un qualcosa a parte che capita, non è natura. La tecnologia è un'attività profondamente umana e quindi come tale va costantemente tenuta al centro delle riflessioni anche politiche, visto l'impatto che ha in particolare a partire dagli ultimi 150 anni. Terza osservazione, tecnologia e capitalismo. Allora potremmo pensare agli ultimi 200 anni, diciamo della rivoluzione industriale, negli ultimi 240 anni, come un periodo storico in determinati paesi, prima l'Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Germania, eccetera, come un sistema politico ed economico dove vige un'estrema libertà di introdurre tecnologia, chiaramente per chi può introdurre la tecnologia, perché non è che tutti possano introdurre tecnologia che sia socialmente rilevante, con pochissimo scrutinio ex ante, quindi la tecnologia è tecnicamente possibile, e quindi qua c'è il ruolo degli ingegneri, dei tecnici, dei costruttori di macchina, si trova chi è interessato a finanziarne un'ampia diffusione, e quindi che ti è disposto a investire per ingegnerizzare il prototipo, per poi farlo in molte coppie, distribuirlo nella società, e fare tutte le cose notevoli e costose che servono. Ebbene, questa azione avviene tipicamente con uno scrutinio ex ante molto debole, nel senso che gli esempi che potremmo fare di tecnologie che vengono introdotte, e vengono introdotte senza, facciamo l'esempio più vicino alla nostra disciplina scientifica, senza uno studio scientifico sull'impatto di quella tecnologia sulle persone, sulla società e sull'ambiente, tipicamente sono degli studi molto limitati quando ci sono, e quindi senza poter rispondere in maniera esaustiva, ampia, questa tecnologia, se diffusa in maniera ampia, prevediamo dei limiti del possibile che abbia i seguenti impatti sulla salute emana a breve termine, a lungo termine, sulla fauna, sulla flora, sull'aria, sulle acque e così via, questo non avviene, o avviene in maniera estremamente superficiale, quindi la tecnologia viene introdotta dalle macchine tessili della rivoluzione industriale fino a organismi geneticamente modificati, allo smartphone, ai social media e tutto, e con interventi, quindi, che se ci sono, sono exposto, tipicamente solo in casi eclatanti di evidenti problemi per la salute o per l'ambiente, e tipicamente solo dopo anni, e qui la storia dimostra come tra le prime evidenze scientifiche concrete che in una determinata tecnologia è nociva, l'amianto, le sigarette, lo zucchero nell'alimentazione e tanti, tanti, tanti altri esempi che potremmo fare, a l'intervento normativo, come dire, nei paesi che sentiamo più vicini, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Italia, appunto, c'è un oiato che almeno di anni, da quando l'evidenza è conclamata, è in alcuni casi di decenni o molti decenni. Questo per tutta una serie di motivi che, insomma, che conoscete bene, dalla cattura del regolatore alle azioni di lobby, a tante altre cose, la produzione di evidenza scientifica che semina il dubbio, come nel caso delle sigarette, per esempio, sulla correlazione tra il fumo delle sigarette e il cancro dei polmoni, eccetera, eccetera. Quindi, questo è il paradigma, ovviamente con tutte le semplificazioni e le forzature che mi vorrete perdonarmi, dell'introduzione di tecnologie, chiaramente di quelle socialmente rilevanti, non sto parlando della tecnologia che rimane, come dire, confinata in piccole nicchie, sto parlando delle grandi tecnologie con un grande impatto sociale, come l'automobile, come il telefono e così via. Esempi tra i tanti possibili, appunto, l'ho detto, amianto, sigarette di zuccheri, amianto, le prime osservazioni scientifiche che legano, che prospettano la possibilità di una correlazione tra inalazione di polvere d'amianto con specifiche forme di cancro dei polmoni risalgono alla fine dell'Ottocento, le prime, la proibizione di molti usi dell'amianto in Italia, che tra l'altro è il primo paese al mondo, mi risulta nel 1993. Cioè, lo iato è 90 anni. Sigarette, sostanzialmente 50 anni, perché le sigarette provochino un forte aumento dei cancro dei polmoni, sostanzialmente l'evidenza avviene tra la prima e la seconda guerra mondiale. Per quello degli zuccheri, che in realtà è un caso più recente, solo da pochi anni abbiamo evidenza che le indicazioni, le raccomandazioni per la nutrizione sviluppate negli Stati Uniti, nell'organismo internazionale negli anni 50, sono state fortemente condizionate, in realtà da interessi economici contrapposti, in questo caso interessi economici che tendevano a gettare catevaluce sui grassi, e quindi sull'industria della carne, del burro, del formaggio e così via, per favorire in realtà una dieta ricca di zuccheri. L'evidenza anche proprio di corruzione in questo ambito è soltanto relativamente recente. Inoltre, in un sistema capitalista, la tecnologia è tipicamente introdotta per profitto, ovviamente, o per scopi militari, in generale non sulla base di bisogni sociali. Nello studio della tecnologia è abbastanza chiaro che non c'è un problema sociale che genera la domanda di una soluzione tecnologica e dunque arriva la soluzione tecnologica. In realtà, molto spesso, e non da ieri, gli antropologi ci dicono che le radici sono molto più antiche, la tecnologia è costituita spesso da, così un po', se mi consentite quasi una battuta, da soluzione alla ricerca di un problema. Cioè viene sviluppata la tecnologia perché è divertente, perché è bella, perché si pensa che possa essere utile, eccetera, non perché sia stato identificato con precisione un problema e la tecnologia è lo strumento che permette di risolvere il problema, ma viene sviluppata, appunto, per una varietà di motivi e poi si trova uno o più problemi magari generati artificialmente da risolvere con quella tecnologia. Brevissima citazione da Neil Postman, questa figura particolare di intellettuale pubblico statunitense che in uno dei suoi ultimi libri diceva vi invito a riflettere sulla tecnologia facendovi alcune domande. Qual è il problema di cui questa tecnologia sarebbe la soluzione? Che è una domanda nella sua apparente semplicità potenzialmente sovversiva. Seconda domanda collegata, di chi è il problema? Idem come sopra. Quali persone e quali istituzioni potrebbero venire danneggiate da questa tecnologia? Quali nuovi problemi verranno generati dall'aver risolto questo problema? E quali persone, quali tipi di persone e istituzioni potrebbero acquisire uno speciale potere economico o politico a causa di questo cambiamento tecnologico? Per noi ingegneri un approccio a domande di tipo, scusate, un approccio a temi etici o politici basato su domande è molto accessibile e per esempio anche pedagogicamente vedo che i miei studenti trovano molto facile ragionare sulla tecnologia in maniera più ampia usando un approccio a domande tipo questo. Un altro insieme di domande molto più corposo è quello di Jacques Ellul sulle sue famose 76 domande da porsi in merito a qualunque tecnologia. Ma mi basta far semplicemente vedere queste poche domande che nella loro essenzialità sono già molto utili. Quarto, tecnologia e socialismo. Tema amplissimo di cui sono ovviamente l'ultima persona che dovrebbe parlarne ma consentitemi semplicemente di dire, di chiedermi come sarebbe la tecnologia in una società socialista democratica e uso l'espressione socialista democratica facendo riferimento al recente libro di Martin Heglund tradotto anche in italiano Questa vita dove oltre al resto più volte si sofferma sul tema della tecnologia e in linea di principio in questa costruzione teorica molto, come dire, che vola molto alto sui principi generali una tecnologia al servizio dei bisogni della società con l'obiettivo primario di restituire tempo alle persone che è l'obiettivo, come dire, generale, filosofico e politico della proposta di Martin Heglund. Quinta osservazione tecnologia e democrazia. Allora, senza... cioè qui e ora quindi prendendo sul serio la democrazia nei nostri sistemi attuali di tentativo di coniugare un'economia capitalista con la democrazia politica prendendola sul serio allora potremmo darci come obiettivo generale un controllo democratico della tecnologia che non è il paradigma in... come dire dominante in questo momento in questi ultimi duecento anni perché vale invece il paradigma che vi dicevo prima un'estrema libertà di introdurre tecnologia con interventi ampiamente esposto. e quindi da questo punto di vista in realtà è abbastanza facile provare a delineare cosa vorrebbe dire un controllo democratico della tecnologia almeno in linea di principio poi sappiamo benissimo quanto sia... abbia una componente utopica quello che vi sto mostrando in questo momento cioè predire le conseguenze per quanto possibile è chiaro che non c'è nessun determinismo ma possiamo fare degli studi ampi e seri per esempio come raccomandava Luciano Gallino in uno dei suoi ultimi libri di tecnologia e democrazia poi valutare i pro e contro perché le tecnologie rilevanti hanno un fascio di potenziali conseguenze positive e negative e poi se si decide democraticamente di procedere con questa tecnologia a questo punto democraticamente definire i tempi e i modi contrastare ovviamente gli impatti negativi le conseguenze negative che si sono già sono già attese o che si manifestano nel corso della diffusione di questa tecnologia quindi appunto anche attrezzarsi per monitorare gli sviluppi e intervenire se necessario questo è uno schermino veramente molto semplice è anche quello che mi raccontano gli amici giuristi che semplicemente si adotta per applicare le regole di come dire di le linee guida sulla qualità in un'azienda quindi non c'è nulla di particolarmente originale quello che però ovviamente ci sfida e che applicato in contesto democratico è una componente quasi utopica proprio perché è così lontano quello che invece facciamo adesso sottolineo il se che era sottolineato al terzo punto se si decide di applicare la tecnologia perché qua è ora di avere il coraggio in totale tranquillità di dire di avere preservare il diritto di decidere se non mettere in campo una determinata tecnologia perché in alcuni casi non metterla in campo è la soluzione più opportuna questa posizione che verrebbe facilmente etichettata in maniera strumentale e superficiale come luddista tra l'altro se uno ho provato poi i miei studenti molti di loro non hanno mai sentito la parola e praticamente nessuno si ricorda da dove viene dobbiamo rivendicare il diritto di accettare il rischio che qualcuno definisca una posizione simile luddista e in totale serenità accettare l'etichetta e difendere invece questa posizione vi faccio anche esempi concreti relativi al digitale due esempi ve li ho già accennati ieri c'è un movimento di studiosi di attivisti importante per dire semplicemente non va bene il riconoscimento facciale in luoghi pubblici alle seguenti condizioni eccetera ma semplicemente no c'è un divieto totale del riconoscimento facciale automatico in luoghi pubblici perché dopo aver attentamente riflettuto filosofi morali che hanno lavorato con informatici eccetera hanno concluso che i potenziali vantaggi di avere di girare per la città ed essere identificati e seguiti nei nostri spostamenti grazie alle molte telecamere presenti in città i potenziali benefici per esempio i soliti contrasti al terrorismo eccetera sono infinitamente minori rispetto al potenziale di rischio di questa tecnologia e quindi si conclude per una volta in maniera netta radicale è una tecnologia che semplicemente non va messa in campo punto altro esempio vi parlavo ieri delle armi letali autonome anche in questo caso una posizione radicale trattato internazionale così come abbiamo fatto per le armi chimiche batteriologiche dire no le armi letali autonome con ovviamente tutti i problemi di implementazione quindi ispezione incrociate eccetera eccetera ma vanno trattate come altre forme di offensive giudicate non compatibili con la civiltà umana nel caso dei dati che sono un aspetto così importante del mondo digitale invece di avere il paradigma attuale vi dicevo ieri il paradigma in cui faccio di tutto per produrre più dati possibili quindi riempio di sensori tutto per acquisire più dati possibili che poi memorizzo per un tempo indefinito anche se non so a cosa mi servono e le memorizzo un tempo indefinito perché dico adesso magari non servono ma magari tra 5 anni o tra 10 anni torneranno utili questo paradigma va rovesciato radicalmente e quindi acquisire dati solo se ritenuto strettamente necessario ok e questo badate è sostenuto anche per esempio degli aspetti di sicurezza perché io acquisisco i dati una volta acquisiti i dati questi dati possono essere trafugati possono essere presi da persone che non dovrebbero averlo eccetera e quindi gli aspetti di sicurezza ormai hanno come dire pacificamente concluso che la la prevenzione migliore è non averli proprio quei dati quindi non vanno prodotti proprio a meno che non sia specificamente necessato puoi usarli esclusivamente per l'obiettivo originario e cancellarli il primo possibile eliminarli ok allora queste cose che vi sto dicendo in parte sono già state chiaramente recepite dalle normative europee dove la tutela i dati personali più forti quindi appunto che il dato l'ho usato solo per l'obiettivo originario e che va cancellato il primo possibile è già recepito dalle nostre norme ma è proprio il paradigma generale che va cambiato per cambiarlo però bisogna avere una qualche forma di sovranità sui software e sui dispositivi digitali perché invece continuano a venire costruiti con l'obiettivo di acquisire più dati possibili e di trasmetterli poi in questi silos centralizzati dal punto di vista istituzionale parlando di tecnologia e democrazia c'è un'esperienza molto interessante statunitense perché il congresso dei Stati Uniti quindi Camera dei Deputati più il Senato si era dotato per circa 23 anni di un apposito ufficio l'ufficio della valutazione della tecnologia Office of Technology Assessment che era un organo politico perché il board era costituito per metà di deputati per metà di senatori ma era un organo tecnico di supporto alle deliberazioni del congresso degli Stati Uniti su temi tecnologici e tra l'altro ha operato appunto per poco più di 20 anni sono disponibili i suoi lavori li ha preservati se ben ricordo Princeton nota storica 1972 l'anno in cui viene costituito è un momento di grande attenzione da parte del mondo tecnico e anche degli ingegneri per le questioni sociali e politiche in particolare l'MIT che è come dire il politecnico più autorevole più ricco più influente in quegli anni vive con grande partecipazione una riflessione su se stesso il proprio ruolo nella guerra in Vietnam e in generale con l'apparato militare e quindi non mi sorprende che questa iniziativa sia nata nel 72 e altrettanto non mi sorprende che sia stata chiusa nel 95 cioè immediatamente dopo la cattura del congresso statunitense da parte dei repubblicani sia senato e camere deputati con come loro leader Newt Gingrich che ricorderete bene fatte queste osservazioni sulla tecnologia in generale ora diciamo alcune cose sulla tecnologia digitale che è l'oggetto del nostro seminario allora ripeto le conclusioni progressiva computerizzazione centralizzata il vantaggio delle big tech stretto coordinamento tra queste aziende e governi e forte subalternità dell'Unione Europea allora su quest'ultimo punto lascerei poi in parte abbiamo già parlato ieri ma non lascerei poi la discussione perché in realtà non mi interessa tanto un discorso come dire quasi da interesse nazionale certo l'interesse nazionale ha un suo ruolo anche se provisco a parlare di interessi delle persone però non vorrei tanto parlare ma oddio stiamo perdendo la guerra agli armamenti digitali con l'America e con la Cina come facciamo a dar marcia anche noi a me interessa avere un rapporto corretto con la tecnologia democratico nell'interesse dei più più che dire come facciamo a dar marcia anche noi e quindi provo a elencare una serie di possibili azioni nella giusta direzione anche per dare materiale poi per la per la discussione successiva allora comincio con forse la più specifica sul digitale digital bill of rights o information bill of rights o internet bill of rights queste espressioni in lingua inglese le utilizzava spesso Stefano Rodotà che se ne occupa da mi verrebbe a dire da sempre dagli anni 70 e dalla fine degli anni 60 addirittura e perché riteneva che fosse non una condizione necessaria e sufficiente ma un utile strumento giuridico per poter avere un uso della tecnologia più rispettoso degli individui e più socialmente utile quindi questo ci tengo a sottolinearlo perché ogni tanto anche con amici con colleghi si tende a dire a caratterizzare questa grande attenzione di Stefano Rodotà per una internet bill of rights come dire ma mica risolve tutto certo che non risolve tutto su questo non c'è dubbio lui sarebbe stato il primo a ribadirlo anche oggi ma riteneva e secondo me correttamente che potesse essere un utile strumento chiaramente nel momento in cui diventa una norma vincolante nel momento in cui il sistema giudiziario comincia a interpretarla come tale quindi non soltanto come una dichiarazione con lui abbiamo lavorato alla dichiarazione dei diritti in internet che è un documento che fu pubblicato dalla presidenza della canale dei deputati nel luglio del 2015 quindi tra poco saranno sei anni ed è un documento che mi piace ricordare non soltanto perché in larga parte è uno degli ultimi grandi interventi pubblici di Stefano Rodotà ma anche perché mi sembra che sia reggendo il passaggio del tempo molto bene quindi se vedete questo asciutto documento di 13 articoli disponibile tra l'altro in varie lingue mi sembra che abbia retto molto bene perché Stefano Rodotà vedeva lontano e quindi aveva già visto cose che sono diventate più chiare ai più soltanto più di recente notate che oltre al resto in questa dichiarazione di diritti in internet c'è un tema che è emerso nella discussione ieri che però da solo potrebbe riempire un intero seminario cioè cogliere a pieno lo straordinario potenziale per la creazione e la condivisione della conoscenza reso possibile dal digitale l'abbiamo accennato ieri in seguito a una domanda una domanda sulla pirateria è un tema delicato perché chiaramente ci sono precisi interessi anche legittimi interessi a preservare un approccio alla conoscenza basato sulla scarsità però se vogliamo guardare al futuro dobbiamo continuare nonostante si sia ottenuto poco in questi 30 anni continuare a dire sì ma il digitale in realtà rende possibile una condivisione della conoscenza e facilita la creazione di conoscenza in maniera straordinaria e questo dobbiamo non combatterlo e contrastarlo ma trovare il modo di realizzarlo seconda possibile direzione che in realtà riguarda adesso ci concentriamo su Big Tech che sono effettivamente tra le più grandi aziende al mondo ma in realtà guarda trasversalmente il settore economico quindi radicale azione antitrust vi dicevo ieri che il presidente Biden e la sua amministrazione stanno piacevolmente sorprendendo molte persone me incluso con un cambio di paradigma economico importante vediamo se rimane nel tempo se effettivamente è un punto di svolta nella storia non sappiamo ancora quale sarà la sua posizione relativamente alle politiche antitrust politiche antitrust che negli ultimi 40 anni sono state molto più timide rispetto al passato lo dicevamo ieri aziende che sono diventate straordinariamente grandi straordinariamente ricche anche per esempio non soltanto facendo le classiche cose che fanno i trust quindi per esempio sussidiando parti diverse dell'azienda in maniera incrociata credo che sia noto a tutti che per moltissimi anni forse ancora adesso la parte di negozi online di Amazon è stata in perdita e veniva sussidiata da invece i servizi web di cloud computing di Amazon che invece sono altamente profittevoli e questo è quindi quando si parla della straordinaria efficienza di Amazon come negozio è assolutamente vero sono un prodigio dell'organizzazione e lasciamo perdere insomma i dettagli di questo prodigio ma è anche assolutamente un prodigio che è sostenuto da un sussidio incrociato di altre parti della stessa azienda e analogamente potrei fare altri esempi vi ho anche detto ieri che queste aziende hanno comprato centinaia di aziende più piccole che potevano diventare le potenziali concorrenti e anche questo senza che ci fosse mi risulta nemmeno un caso di intervento dell'azione delle autorità antitrust per bloccare l'acquisizione e quindi è evidente che dobbiamo riscoprire tutta una serie di strumenti e di mettere in campo tutta una serie di strumenti ben noti prima di questi ultimi 40 anni quindi scorporare divieti di sussidi incrociati divieti di acquisizione di potenziali concorrenti trasparenza molto superiore ad adesso sugli algoritmi sui dati sulle pratiche seguite possibilità di ispezioni serie condivisione imposta per legge dei dati che costituiscono un patrimonio che le rende come dire inscalabili non contendibili ok quindi tutti strumenti in realtà a parte l'ultimo sui dati non particolarmente nuovi che però sono stati messi in campo in maniera straordinariamente timida negli Stati Uniti e anche tutto sommato in Europa nonostante le varie note azioni antitrust nei confronti di Google Microsoft eccetera terza possibile direzione di nuovo che non ha nulla a che vedere specificamente col digitale se non che questi grandi patrimoni specialmente in questi ultimi anni sono diventati largamente connessi al mondo digitale Jeff Bezos Bill Gates e così via questi patrimoni distorcono il campo democratico il fatto che non soltanto ci siano aziende così grandi ma ci siano anche individui che tipicamente grazie a partecipazioni azionarie sono diventati così strabiliantemente ricchi c'è un'interessante visualizzazione online che aiuta a cercare di capire un po' meglio cosa vuol dire avere un patrimonio personale di 100 miliardi di dollari che quando i numeri diventano così grandi diventano quasi insignificanti uno dice 100 miliardi ma cosa vuol dire 100 miliardi ebbene c'è quella visualizzazione che vi consiglio di cercare su internet perché fa capire un po' meglio cosa vuol dire 100 miliardi di dollari e quindi collegato con questo la riscoperta che a quanto pare sta avvenendo con l'amministrazione Biden del ruolo delle tasse di una tassazione molto più progressiva soprattutto sui grandi patrimoni e non accettare lo scambio sì sono diventato così straordinariamente ricco ma non è un problema perché tanto faccio filantropia questo è una riscoperta di quello che in realtà sapevamo già in passato ma che per 40 anni è stato interessatamente dimenticato sempre nulla di specifico su digitale ma che possiamo declinare su digitale un radicale rafforzamento della ricerca pubblica vi dicevo del fatto che ormai è una lotta a darmi impari perché queste aziende possono offrire delle retribuzioni degli ambienti lavorativi così straordinari da adesso forse sta un po' cambiando perché la loro reputazione si sta un po' incrinando però da rendere non fattibile una competizione da parte delle università pubbliche tranne forse alcune pochissime tra le più ricche e quindi un grosso investimento nello Stato qua è un tema molto ampio che chiaramente sfioro con timore ma abbiamo visto anche nel corso di questa pandemia il grande indebolimento ma non soltanto in Italia anche se le differenze di grado sono importanti ma sostanzialmente trasversalmente l'impoverimento cognitivo organizzativo e produttivo dello Stato che improvvisamente nel corso della pandemia è balzato agli occhi il fatto che lo Stato facesse così fatica a capire fenomeni a mettere in campo organizzazioni efficaci e a produrre laddove il mercato le forze economiche non riescono a produrre ciò di cui la collettività ha bisogno parlavamo prima di tecnologia e democrazia quindi mi collego all'osservazione precedenza un radicale rafforzamento della democrazia nel senso che se volessimo davvero esercitare un controllo democratico della tecnologia abbiamo bisogno di un radicale rafforzamento questo lo lascio soltanto citato perché dovremmo capire in che senso un rafforzamento un rafforzamento che è cognitivo quindi di conoscenza che è un rafforzamento oggettivo di potere che in questo momento non c'è o c'è soltanto un po' di più in alcuni paesi quindi è una affermazione di principio che immagino sia di quelle quasi la palissiane ovvie che poi però dietro concretamente hanno tutta una serie di ragionamenti che si potrebbero fare sesto e ultimo nutrire l'immaginazione famoso slogan del World Social Forum un altro mondo è possibile e qui aggiungo per i miei pari un altro mondo digitale è possibile quindi ritengo che noi tecnici abbiamo stiamo parlando di digitale adesso ma potrebbe valere per altri campi della tecnologia abbiamo il dovere chi la desidera farlo e chi sente questa responsabilità di mettere al servizio della collettività la nostra capacità di immaginare la tecnologia cioè noi abbiamo le basi per provare a esercitare l'immaginazione dire adesso è così ma potrebbe essere in questi altri modi e per esempio potrebbe se qualcuno di voi mi dicesse ma c'è parlato di una tecnologia molto centralizzata verticale ma potrebbe essere distribuita e io direi sì potrebbe essere distribuita ci sono già degli esempi in passato e alcune cose sono decentralizzate ancora adesso e quindi potrebbe essere sicuramente più distribuita in futuro quindi in realtà non è tanto un problema tecnico perché tecnicamente siamo capaci a fare un'infrastruttura più distribuita e allora insieme con scienziati politici con economisti e così via potremmo discutere e dire ma allora che cos'è che manca la volontà politica i capitali e capire quindi anche in che direzione attivarci concludo lasciatemi concludere con le parole della persona che ho citato prima dello studioso del politico Stefano Rodotà che come sapete si è molto adoperato oltre a tante altre cose per l'introduzione a livello europeo a livello italiano della tutela della protezione dei dati personali e anche per la costituzione dell'autorità garante del garante privacy di cui diviene il primo presidente fa un discorso il primo anno fa alla fine del primo anno fa un discorso una relazione davanti l'autorità della repubblica in cui traccia un po' come dire una sintesi un'analisi di quello che è successo in quell'anno ma fa anche una specie di manifesto programmatico per le attività del garante per il ruolo della tecnologia e vi cito soltanto le ultime frasi il cammino delle democrazie il radicarsi dello stato costituzionale dei diritti sono stati accompagnati proprio dall'interrogarsi persino angoscioso intorno alla legittimità dei mezzi che è lo stato e notate bene e qualsiasi detentore di potere possono adoperare l'abeas corpus il diritto dell'impotato di non rispondere segnano da secoli la frontiera della civiltà non a caso da anni si invoca un'abeas data si sottolinea la necessità di un'information bill of rights e conclude proprio tutta la relazione con queste parole proprio perché i problemi più acuti nascono dalla disponibilità di un arsenale tecnologico sempre più imponente qui come altrove l'enfasi è mia bisogna chiedersi se tutto quel che è tecnicamente possibile sia pure eticamente lecito politicamente e socialmente accettabile e giuridicamente ammissibile l'avvenire democratico si gioca sempre di più intorno alla capacità sociale e politica di trasformare le tecnologie dell'informazione e la comunicazione quell'oggetto del nostro seminario in tecnologie della libertà e non del controllo e conclude così la sua relazione e concludo anch'io questo seminario grazie grazie davvero moltissimo di questi spunti che ci hai offerto io personalmente vorrei intervenire su tantissimi di questi ma non lo faccio ovviamente per dare la parola a chi vorrà intervenire lo ricordo prenotandosi sulla chat che è il modo più ordinato vorrei solo aggiungere questo che Stefano Rodotà è stato un grande amico dell'istituto è venuto invitato a parlare e sempre diciamo così illuminandoci della sua saggezza se posso usare questa parola forse un po' disueta tanto che una borsa è annuale a lui dedicata dall'istituto quindi questo per rivendicare l'importanza di questo grandissimo non solo studioso ma democratico democratico radicale come deve essere definito detto questo abbiamo la possibilità di un dibattito ampio e ricco e quindi vi chiedo di intervenire prenotandovi sulla chat allora Tiziana Bonfili grazie è stato davvero molto interessante si sente? si si parli io volevo dire una cosa ora non mi so viene il nome mi è capitato di scrivere un articolo ho citato non mi so viene il nome che è il marito dell'Arendt comunque è stato Gunther Anders che già negli anni 50 scriveva determinate cose mi ha veramente impressionato io ho molto amato Marcello Cini con cui feci le 150 ore secoli fa quando ero sociologia mi interessavo di sociologia della scienza insomma e praticamente uno dei libri più interessanti che risale appunto alla metà degli anni 70 è stato proprio l'Architetto scritto da lui e da altri scienziati dove appunto ci si interrogava sulla oggettività della scienza e questa questione era stata posta in maniera forte da Gualtasso in quegli anni io mi chiedo perché la scienza sebbene ci siano state voci che hanno proseguito perché io per esempio frequento anche i bezzoniani Cini era amico di Bezzon tra l'altro loro lavorano parecchio su questo discorso anche della pedagogia della scienza no e non capisco perché intanto gli scienziati non hanno preso una posizione più chiara no più perché Cini per esempio mi è capitato di ritrovarlo che sembrava veramente ancora un ragazzino all'università bellissimo l'ho visto al convegno sui 40 anni del 68 che sono state sei giornate mi sembra che è stato fatto all'auditorium sul palco con Combedit ormai era anzianissimo a parlare di queste questioni Combedit è stato nei verbi tedeschi quindi nel 2008 che erano anche molto forti insomma ecco io non riesco a capire perché comunque capita di conoscere parecchi scienziati che hanno delle posizioni anche democratiche rispetto a questa questione però non si va avanti e poi ecco un'altra domanda che volevo farle è il perché cioè non si capisce che il sistema capitalistico mira sempre più in alto e questa claustrofobie questa claustrofobie segregazione attuale per esempio è una questione comodissima io credo per un sistema capitalistico che ha ambizioni di ammirare ancora più in alto no ma a un certo punto forse bisognerà riuscire a fermarlo sì grazie di queste domande e considerazioni allora provo a rispondere alla prima il mondo della scienza chiaramente non è isolato è insensibile alla congerie politica e storica anzi al contrario estremamente sensibile quindi non dobbiamo stupirci del fatto che negli anni settanta che effettivamente è stato un decennio molto interessante che negli anni settanta ci fossero anche ingegneri che forse lasciatemelo dire la categoria forse più più lontana da queste riflessioni molto attenti a temi sociali politici eccetera anche negli Stati Uniti negli Stati Uniti in Italia e così via e con la come dire la contro rivoluzione di inizio anni ottanta questo cambia 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 la società e quindi cambiano anche chiaramente gli scienziati e badate bene io ho scritto anche ho scritto solo un libro ho scritto un libro sull'università nel 2017 e badate che proprio all'inizio degli anni ottanta comincia prima in Inghilterra e poi progressivamente in tutti i paesi Italia inclusa col solito ritardo inizia anche una serie di modifiche istituzionali nel mondo della ricerca dell'università che sono possiamo discutere a lungo su a che obiettivi avessero e quali forze spingessero per questi cambiamenti ma hanno avuto quantomeno l'effetto magari non pianificato fin dall'inizio quindi una sorta di eterogenesi dei fini di depoliticizzare fortemente la riflessione dei docenti adesso se noi vediamo i giovani ricercatori che entrano all'università che sanno di dover fare un certo numero di pubblicazioni scientifiche con determinati parametri di dover superare tutta una serie di ostacoli specialmente nelle aree cosiddette bibliometriche come le nostre qualunque considerazione che non sia strettamente finalizzata a riuscire a sopravvivere al precariato e a diventare a avere l'agoniato posto di ruolo è considerata una perete di tempo pericolosa e quindi non soltanto le riflessioni come dire un po' più ampie sociali e anche meno politiche ma anche banalmente un lavoro modestamente interdisciplinare è fortemente scoraggiato con l'introduzione della cosiddetta valutazione della ricerca di questi ultimi 12 anni il consiglio da dare a un giovane ricercatore è non soltanto non fare lavoro interdisciplinare ma lavora al centro assoluto della tua disciplina per evitare per minimizzare al possibile i rischi figuriamoci di fare i ragionamenti che stiamo facendo insieme grazie questo tra le altre cose sarebbe un tema interessantissimo che se già crea conformismo si può dire nei settori bibliometrici non può capire quello che sta creando nei settori non bibliometrici perché ci sono dei parametri francamente assurdi ma su questo sui disagi della ricerca noi abbiamo già dedicato un seminario tenuto da soprattutto da giovani ricercatori che si scontrano esattamente con questi problemi molto concreti allora Fulvia Giacchetti eccomi allora intanto grazie per questi bellissimi seminari molto istruttivi e le volevo chiedere tra le parole che sono ricorse molto più molto frequentemente nei suoi seminari ci sono quelle di sorveglianza controllo quantificazione prima ha detto anche nelle conclusioni centralizzazione e verticalizzazione e mi sembrano tutta una serie di vocaboli che hanno a che fare un po' con l'idea di pianificazione cioè con l'idea di economia pianificata però chiaramente quest'idea mi sembra più associabile sì ma parlo per diciamo a caldo mi sembra più associabile all'economia socialista diciamo al socialismo reale quindi più che all'occidente diciamo forgiato da Thatcher e Reagan e quindi niente volevo chiederle come cambia l'idea di economia pianificata in questo in questo contesto Zuboff parla addirittura di nuovo collettivismo e non so mi sembra eccessivo no allora la sorveglianza di cui parlo io la sorveglianza il controllo eccetera eccetera è perfettamente compatibile con col mondo neoliberale nel senso che comunque le dinamiche come dire verso il monopolio o quantomeno l'oligopolio dell'economia capitalista sono ben note da tempo e quindi stiamo semplicemente riscontrando questa questa dinamica con la concentrazione di queste aziende che appunto sono quasi tutte digitali quindi a quel punto di vista perfettamente compatibile con il capitalismo anzi una delle caratteristiche del capitalismo poi per quello che riguarda sorveglianza non è tanto cioè io personalmente non lo leggo tanto un'economia pianificata lo leggo con il desiderio da parte di attori economici di avere quante più informazioni possibili per vendere pubblicità o per vendere prodotti e quindi il digitale ha abilitato qualcosa che era già desiderabile in anticipo ma che si faceva con strumenti molto più imperfetti come i sondaggi focus group e altre tecniche di stima adesso invece c'è un si è realizzata una situazione meravigliosa di poter avere informazioni molto più precise molto più aggiornate sui singoli individui o non su classi di individui quando una volta io volevo fare pubblicità in televisione mi rivolgevo ad agenzie che mi potevano dire ma sì i giovani tra i 15 e i 18 dovrebbero essere sensibili a determinata cosa ora ho propri dati o meglio ora facebook google eccetera hanno i dati e possono venderli a terzi ed è quello il loro business principale è quello il 90% di vendere questi dati per vendere parole pubblicitarie o per vendere inserzioni pubblicitarie però quello che dice lei in realtà solleva un aspetto interessante che vorrei approfondire di più cioè che proprio questa enorme raccolta dei dati così capillare mette potenzialmente un po' in dubbio il punto di partenza uno dei capisaldi dell'ideologia neoliberista in particolare quella di di Fonayek cioè del mercato come l'unico efficiente e affidabile strumento di elaborazione informazioni quindi se devo identificare forse il punto fondamentale del pensiero agiechiano è proprio che nessuno non lo Stato soprattutto non lo Stato ma nessun altro può arrogarsi l'idea di poter prevedere cosa vuole la gente quindi che cosa produrre lo può solo fare nel mercato e quindi è un elaboratore di informazione quindi in qualche modo interessante che lo veda come una sorta di super computer quindi da questo punto di vista in questi ultimi anni effettivamente si dice ma un attimo questa enorme raccolta di informazione così capillare non sta creando le precondizioni per riparlare di un'economia pianificata perché le informazioni che Hayek non vedeva se non nelle libere forze del mercato ora in realtà potenzialmente Google Facebook eccetera ce le hanno quindi paradossalmente la nascita di questi giganteschi monopoli basati così tanto sui dati e sulla sorveglianza sta rimettendo in circolo l'idea che allora forse il problema del calcolo socialista come sto chiamato agli anni 30 quindi come calcolare ciò che va prodotto e quando va prodotto forse adesso diventa attorno all'attualità quindi in questo senso semmai vedo il collegamento la parola Luca Siniscalco un attimo prima di dare la parola però a Luca Siniscalco vorrei leggere una chat di Pietro Ercolano che chiede al professore gentilmente di indicare altri testi oltre al capitalismo della sorveglianza se magari poi può mettere qualche altro testo indicazione di testi in chat di quelli che sono stati citati allora stavo dicendo Luca Siniscalco prego Buonasera professore io volevo tornare brevemente sul tema del carattere neutro della tecnologia e il fatto che la tecnologia non sia neutra è una direi conquista della filosofia del novecento che è generalmente una tesi condivisa e da questo punto di partenza dal suo intervento sembra emergere una posizione di generale fiducia nell'uomo e nel suo potenziale trasformativo quindi degli assetti non soltanto politici ma anche tecnologici appunto eppure si insinua a volte il dubbio all'interno del dibattito filosofico che la tecnica nella sua costituzione profonda ontologica si potrebbe dire abbia una sorta di vettore di direzione quasi necessitante e che quindi ad esempio la tecnologia come intesa nella modernità sia in qualche modo ineludibilmente necessariamente associata a un determinato tipo di capitalismo e divisione del mondo ecco mi chiedevo su questo punto dove in parte si è già espresso ma se poteva aggiungere qualche considerazione e in particolare se secondo lei in questo mondo sempre più complesso e multipolare vi sia già qualche contesto culturale politico diverso da quello appunto occidentale liberal statunitense in cui si vedono i germi di un'altra possibile lettura di un'altra destinazione della tecnica grazie grazie a lei per queste domande e queste osservazioni allora sì effettivamente sono a conoscenza di queste posizioni filosofiche che però mi sembrano dal punto di vista politico de responsabilizzanti e sono de responsabilizzanti quanto le posizioni entusiaste che vedono nella tecnologia come sempre comunque un progresso in un caso de responsabilizzante perché qualunque progresso tecnologico è un progresso appunto e quindi cosa ci stiamo preoccupando e invece nel caso come dire più più negativo de responsabilizzante perché se c'è una direzione necessitante dunque perché interrogarsi sul da farsi perché attivarsi politicamente o perché anche persino parlarne in realtà quel poco di storia della tecnologia soprattutto dell'ottocento e del novecento che ho letto mi sembra che indichino qualcosa di diverso cioè che ipotizzare uno scenario di una comunità nazionale per esempio che è completamente libera di determinare lo sviluppo tecnologico è difficile da sostenere perché ci sono anche relazioni tra stati e quindi ogni comunità non sarebbe isolata da quello che capita intorno ci ho detto la storia della tecnologia mostra come lo sviluppo tecnologico sia stato in alcuni casi fermato rallentato post posto alterato messo in campo in una forma anziché in un'altra e sono proprio per questo la storia della tecnologia è così importante perché sono loro che ci dimostrano che non c'è una forza impersonale che spinge in una determinata direzione ma ci sono scelte precise per parafrasare Federico Caffè potremmo dire che hanno nome cognome e soprannome che hanno deciso tipicamente detentori di capitali rappresentanti politici deciso di spingere la tecnologia in una certa direzione e in questo non sto prefigurando nessun piano precisissimo o nessun complotto semplicemente e tra l'altro alcuni di questi tentativi sono falliti per cui si è cercato di far funzionare determinate tecnologie o di imporre determinate direzioni e il tentativo è fallito per cui non c'è nessuna onnipotenza però come dire baso il mio effettivo moderato ottimismo che lei ha identificato nelle mie parole sulla consapevolezza che in passato gli umani sono stati in grado di modificare il corso della tecnologia tipicamente non con decisioni democratiche e tipicamente non con decisioni come dire di noi cittadini ma di chi poteva prendere queste decisioni però questo apre la strada almeno a linea di principio a poterli invece prendere democraticamente che è appunto la proposta che faccio riguardo al contesto ahimè no perché non riesco a vedere non riesco a fare nessun esempio di una comunità nazionale vi posso fare alcuni esempi di città ve li ho già fatti che per esempio hanno proibito il riconoscimento facciale nel perimetro della città come Barcellona ha fatto quindi sono alcune iniziative interessanti a livello cittadino e aggiungo la riflessione che abbiamo fatto ieri già ieri ovvero che in Cina c'è uno sviluppo della tecnologia tutto particolare dove però a quanto pare rimane come decisore ultimo il potere politico e in particolare il partito comunista cinese e parlavamo di quello che sta succedendo proprio in questi ultimi mesi con i colossi cinesi da questo punto di vista non è che stia auspicando come dire un modello cinese che tra l'altro è un modello unico e penso difficilmente replicabile in qualunque altra parte del mondo anche a prescindere dai problemi di diritti umani e di autoritarismo però è interessante che quello è un caso abbastanza chiaro comunque di un potere politico che cerca di plasmare la direzione tecnologica in una direzione che ritiene opportuna allora Domenico Bocale sì buon pomeriggio a tutti intanto grazie davvero infinita al professor De Martín per le sue lezioni davvero illuminanti ecco io volevo porre la considerazione su le sue conclusioni sia di ieri che di oggi cioè che tra l'altro lei oggi ha ripreso perché indissolubilmente legati anche alla lezione che ha condotto ecco mi hanno particolarmente colpito queste considerazioni cioè il fatto che un mondo computerizzato cioè la computerizzazione di massa ha portato sostanzialmente a una sorveglianza di massa con grandi quantità di dati privati da gestire e nonché la possibilità anche condivisa e richiesta dalla stessa politica non solo di sorvegliare ma questi dati ecco ma anche di formare l'opinione pubblica ecco questa è davvero ecco quindi siamo davanti al mercato delle big tech che non solo crea l'oggetto del mercato ma crea anche il soggetto il soggetto che poi acquisterà quel mercato ecco davvero è straordinaria questa cosa mi fa pensare un po' anche alle riflessioni di Bauman sul consumo dunque sono ecco una società di consumo però calcolata prevista insomma programmata ora riflettendo da un punto di vista anche didattico perché noi siamo qui anche per quello io penso insomma alla scuola secondaria di secondo grado dove si formano i nuovi cittadini ecco allora cosa succede noi come come possiamo tra virgolette difenderci da questo sistema così così davvero esteso dappertutto delle big tech da questo sistema di controllo e di formazione a questo punto perché formazione volendo o nolendo noi siamo immersi in questo mondo ecco come facciamo a difendere a difenderci da questo mondo e soprattutto a formare i nuovi cittadini i ragazzi nella difesa di questo controllo e non solo controllo ripeto anche formazione educazione allora mi viene da pensare questa cosa qua il mondo delle big tech funziona sostanzialmente cioè noi per capirlo per difenderci anche dobbiamo capire il suo linguaggio e il linguaggio fondamentale quello che arriva a tutti è un linguaggio poi lei mi correggerà se sbaglio però è un linguaggio audiovisivo è multimediale no? lei stesso ieri ha detto insomma i ragazzi lo smartphone non lo utilizzano mica più per chiamare insomma lo utilizzano per questione ecco comunicano per esempio con l'emoticon eccetera eccetera ecco quindi è un linguaggio audiovisivo anche pensiamo il mondo dei social network che è fatto da piccoli filmati digitali che durano un minuto e mezzo due minuti però hanno un linguaggio audiovisivo sostanzialmente multimediale ora diventa centrale come fattore educativo quello di introdurre nella scuola penso io ovviamente alla scuola secondaria di secondo grado ma si potrebbe estendere un po' a tutta la scuola la formazione al linguaggio cioè anzi più che la formazione l'alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo è multimediale perché altrimenti noi siamo immersi in un mondo di cui non conosciamo la lingua che utilizza codici di cui non conosciamo non sappiamo leggere ecco e questo dico è induscibibilmente legato anche alle conclusioni che lei ha portato oggi cioè che che occorre per il futuro per creare un futuro più democratico insomma giocare sempre di più ecco come con le parole di Rodotane la possibilità di trasformare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tecnologie della libertà e non del controllo dunque le chiedo ritiene fondamentale questa educazione al linguaggio audiovisivo questa alfabetizzazione del linguaggio audiovisivo e multimediale nella scuola che però bisogna sottolineare attualmente non c'è non c'è grazie grazie a lei per questa domanda allora innanzitutto uno degli esercizi più importanti che dobbiamo fare quando ragioniamo di queste cose è chiederci cosa c'è di effettivamente nuovo e cosa c'è invece di che perdura mi spiego il fatto che vi dicevo che i big tech sono sempre più sollecitati a plasmare l'opinione pubblica in alcuni casi in maniera totalmente trasparente compro compro pubblicità su facebook perché voglio indurre le persone a votarmi o avere una certa idea ovviamente è una prosecuzione con strumenti nuovi di qualcosa che capita nelle nostre società da quanto almeno 200 anni prima con i giornali con l'enorme influenza che hanno avuto i giornali fino al loro picco la loro epoca d'oro gli anni 20 del 900 e poi la progressiva decrescita poi la radio la televisione dove l'enfasi sul controllo di questi mezzi o almeno sull'influenza di questi mezzi è direttamente proporzionale all'estensione del suffragio quindi concedo il suffragio ma lo concedo perché contemporaneamente so di poter plasmare o quantomeno provare a influire le idee delle persone ed è strettamente correlato almeno per come per come lo vedo quindi questo capitava già prima e quindi già prima era importante nella scuola secondaria superiore insegnare a come si è fatto per un po' di tempo chissà se succede ancora adesso a leggere il giornale quindi a decodificare a dire a questo giornale che giornale è qual è la proprietà di questo giornale quali sono gli interessi che rappresenta e come presenta le informazioni la stessa cosa per la radio e per la televisione e che continuano tra l'altro sia giornali che radio e televisione pure uno scenario sempre mutato avere un ruolo quindi non è che non sia più importante spiegare come funzionano questi mezzi di comunicazione che hanno specialmente la televisione e continuano ad avere un'enorme influenza in Italia infatti attentissimamente presidiata a questo si aggiungono questi nuovi strumenti che progressivamente stanno prendendo importanza e quindi dovremmo esposo quello che dice lei ma lo estendo dico non è nuovo questa esigenza e andrebbe dovrebbe essere focalizzata sui mezzi tradizionali e estesa anche per capire cosa ci compare davanti allo schermo quando sono su Facebook su Instagram o su Twitter quindi assolutamente d'accordo ed è una delle principali competenze che dobbiamo aiutare i ragazzi e le ragazze a sviluppare per essere cittadini perché e qui ovviamente cito Noam Chomsky come uno dei massimi studiosi nella produzione del consenso come ha scritto tante volte anche persone con elevati livelli di istruzione quindi anche laureati o anche professori universitari non si rendono nemmeno conto di non sapere anzi potremmo forse dire che un alto livello di istruzione coincide con una particolare falsa coscienza e cattiva comprensione di come funziona il mondo quindi sì assolutamente un tema centrale e basta mi fermerai qui Se possibile vorrei aggiungere una brevissima cosa le vorrei chiedere ma si è occupato per caso della recente legge del 19 sull'introduzione dell'educazione civile alla scuola che prevede tra i suoi assi principali l'educazione alla cittadinanza digitale Me ne sono occupato un po' specialmente interagendo con un collega che è un giurista che se ne sta occupando per altri profili non soltanto sull'aspetto digitale se mi chiede un'impressione anche da genitore di due figlie che vanno al liceo ho la sensazione che questa legge abbia introdotto queste ore non mi ricordo quante sono 25 o 30 minimo i 33 anni ok in cui sono stati infilati un numero di argomenti assolutamente spropositato quindi in 33 ore uno dovrebbe fare l'educazione all'impresa l'economia digitale eccetera quindi assolutamente incongruo e inoltre distribuendole le ore sull'insegnamento esistenti e quindi so che nei licei stanno rosicchiando ore tra le varie discipline per fare questa educazione civica quindi al netto di questi limiti è ovvio che sarebbe utile avere una forma di educazione al digitale dovremmo poi discutere esattamente cosa vorremmo metterci dentro a questa educazione digitale perché il rischio molto concreto per come vanno le cose adesso e continuano ad andare avanti adesso è che si trasformi in una specie di patente del computer cioè tilti al destro a cliccare aprire Microsoft e usare Excel che ovviamente non è educazione civica digitale nella legge in effetti non si dice questo perché no però c'è il rischio il rischio c'è come il rischio che non si faccia proprio perché bisogna programmare attentamente tutto questo ma insomma questo sarebbe un altro capitolo da affrontare allora Matilde Sciolli sì salve professore io volevo tornare sulla questione che lei accennava sul controllo democratico della tecnologia all'interno di un sistema capitalistico e sia ieri che anche oggi diceva per impedire una gestione esclusivamente diciamo imprenditoriale della tecnologia è necessario un intervento del politico sull'economico diciamo e faceva per esempio l'esempio della Cina e dello Stato cinese mi chiedo quindi oggi dove risiede non come esempio no no però diciamo dove avviene quello era un esempio in cui questa predominanza del politico si è data e mi chiedo infatti diciamo su piano occidentale comunque nel mondo pienamente neoliberale diciamo dove risiede questo politico che è in grado di decidere intervenire sul mercato mi sembrava però non l'ha esplicitato quindi chiedo anche questo a lei che la gente in fondo delle sei proposte trasformative che lei enunciava potesse essere in fin dei conti lo Stato come agente istituzionale diciamo mi chiedo però appunto alla luce delle trasformazioni della fase neoliberale appunto in cui lo Stato non è più lo Stato nazione welfareista attento diciamo a politiche redistributive ma è uno Stato imprenditoriale globale concorrenziale inserito dentro flussi di capitale di forza lavoro trasnazionale che gestisce ed è immediatamente diciamo implicato nella gestione in termini appunto che lei stesso diceva coordinati con imprese può essere può essere lo Stato agente diciamo di questo politico e stessa cosa chiedo rispetto a istituzioni sovranazionali quali per esempio l'Unione Europea la Commissione Europea le faceva riferimento per esempio a tentativi di intervento diciamo di salvaguardia della privacy rispetto alla sorveglianza promossa da imprese ma rilevando poi un sostanziale diciamo comunque fallimento dell'intervento o comunque un predominio di determinate tecnologie sorveglianti all'utilizzo diciamo di profitto delle imprese per cui appunto tornando alla domanda iniziale diciamo è possibile un controllo tecnologico democratico all'interno delle istituzioni politiche neoliberali chi diciamo chi può essere la gente di questa di questa trasformazione per renderle diciamo tecnologie di libertà ma anche in termini insomma non di mera scelta ma anche di uguaglianza diciamo intendendo libertà e uguaglianza come termini che in qualche modo convercono grazie la ringrazio in qualche modo la risposta è già contenuta nella domanda nel senso che è chiaro che se parliamo dello stato neoliberale la risposta è già emerge evidente nel senso che no non può essere quello l'attore quindi la precondizione per andare nella direzione che auspico di cui mi rendo ben conto il tasso di utopia è un cambiamento di paradigma forte politico e quindi anche un abbandono della dottrina anche dello stato neoliberale e quindi da questo punto di vista se mi doveste chiedere ma ho paura di fare un discorso da bara ancora di più di quello che hanno fatto fino adesso è che ci sarebbe bisogno di un grande ritorno del ruolo di partiti politici senza i quali credo non sia possibile avere una democrazia significativa magari in forme diverse rispetto a quelle novecentesche ma comunque una struttura organizzata permanente appunto come partiti politici e quindi ritornare a riorganizzare politicamente i cittadini che se rimasti lasciati a essere semplici monadi che interagiscono con lo Stato con le imprese sono in condizioni di profonda inferiorità e non in grado di esercitare appieno la loro sovranità democratica quindi da questo punto di vista c'è bisogno di un dobbiamo lavorare perché c'è moltissimo lavoro da fare per letteralmente decenni per cambiare il paradigma attuale neoliberale come precondizione per poi esercitare un controllo democratico sulla democrazia scusate sulla tecnologia allora Alessandra Scotti buonasera professore buonasera a tutti io volevo un attimo ritornare sulla questione di cui ha parlato in maniera più diffusa oggi e che già accennava ieri in conclusione dell'incontro c'è della necessità lei immaginata di rovesciare il paradigma attuale rispetto ai dati quindi operare una specie di rasoio di Ockham per cui imparare a raccogliere soli dati che ci interessano che necessitiamo esattamente per lo scopo che ci prefiggiamo e soprattutto per il tempo necessario ora questo tipo di approccio economico o anche direi ecologico alla questione dei dati che comunque è una questione su cui la filosofia un po' si è spesa si ci sta riflettendo per dirne una la Federico II c'è un corso di etica di big data che in un certo senso si oppone al modello tradizionale almeno per quello che ne so io al modello computazionale della facoltà mnemonica cioè che ragiona in similitudine fra la macchina e la memoria e vede nel modello computazionale della facoltà mnemonica esattamente la capacità di stoccaggio e di recovery per cui io posso in ogni momento riprendere possesso dei dati di tutti i dati che desidero e quei dati non saranno mai alterati cioè saranno sempre gli stessi il che diciamo si pone esattamente all'opposto rispetto alla facoltà memoriale umana che essenzialmente questo ce lo insegna è in fondo Gianicce e poi Derrida nel novecento con mal d'archivio è essenzialmente capacità di oblio cioè è il dimenticare è l'alterare la traccia mnemonica è solo perché io posso dimenticare che posso ricordare qualcosa quindi in qualche modo in questo paradigma che lei propone possiamo dire che stiamo in un certo senso umanizzando la memoria digitale cioè stiamo cercando di ritrovare questa facoltà della dimenticanza che è tipicamente umana no la ringrazio mi sembra come dire suggestivo metterla in questi termini ovviamente la differenza della memoria umana il dato informatico finché esiste rimane inalterato rimane uguale mentre invece la memoria umana è costantemente come dire è fluida è immobile è costantemente reinventata in un certo senso però grazie lo prendo più come un suggerimento di riflessione che mi sembra così appunto intrigante da approfondire grazie dunque Giulio ma si è firmato solo col nome quindi vuole intervenire Giulio Picca buonasera volevo chiedere al professore ieri sono rimasto impressionato da quel suo grafico sul diciamo sulle corporation più potenti che hanno che concentrano un potere enorme anche una ricchezza economica enorme nelle proprie mani volevo chiedere all'inizio degli anni 2000 Tony Negri scrisse quel famoso libro Impero dove diceva che le moltitudini sarebbero state il nuovo operaio sociale il nuovo proletariato che avrebbero fatto la rivoluzione contro i nuovi padroni che sarebbero i giganti del web però sembra che queste moltitudini sono state completamente sussunte sotto il dominio del capitale sotto il dominio dei social qui diciamo questa prospettiva rivoluzionale questa utopia mi sembra una grossa ingenuità da parte di Tony Negri che è abortita già ai tempi di Porto Allegri e non se ne è parlato più invece c'è una prospettiva più riformista e quella che è contenuta nel libro di Picchetti il capitale nel ventunesimo secolo dove Picchetti dice che è auspicabile creare un organismo sovranazionale che attraverso una forte tassazione soprattutto sui giganti del web riesca a redistribuire la ricchezza e a ridurre questo gap enorme che si sta creando fra ricchi e poveri questo potrebbe essere l'ONU ma sappiamo che l'ONU ha fallito in moltissime sue emissioni quindi l'ONU è quasi una scatola ruta volevo chiedere lei crede che sia possibile la creazione di un governo sovranazionale che nell'interesse dei più deboli anche se è un'utopia riesca in pratica a controllare a mettere sotto controllo politico questo strapotere delle multinazionali del web grazie no grazie a lei sì concordo che un potere politico sovranazionale mi sembra che sia in questo momento forse un momento di massima debolezza dalla fine della seconda guerra mondiale ma non soltanto delle Nazioni Unite ma anche di costruzioni neoliberali come la World Trade Organization che è stata progressivamente svuotata dagli stessi paesi che l'hanno voluta negli anni 90 quindi da questo punto di vista mi sembra che l'unica direzione da cui possiamo aspettarci dei cambiamenti sono che il paese a tuttora egemone che sono gli Stati Uniti decidono di cambiare direzione e avrete letto che qualche anno fa l'amministrazione Biden ha annunciato e anche il presidente il ministro del tesoro l'ex chairman della Federal Reserve hanno annunciato il desiderio degli Stati Uniti di creare un consenso internazionale per una tassa minima sulle imprese per tutte le imprese perché adesso stiamo parlando molto delle grandi imprese digitali perché sono oggettivamente anche le più grandi ma ci sono centinaia migliaia di altre imprese che praticano forme di illusione fiscale legali ma c'erano di meno che hanno sottratto un enorme quantitativo di risorse al welfare state e quindi da questo punto di vista che l'amministrazione USA abbia dichiarato di voler perseguire una tassa uniforme in tutti i paesi tra virgolette avanzati si parla del 21 del 23% e che Francia e Germania abbiano risposto l'altro ieri dicendo che sono d'accordo adesso vediamo il governo Draghi cosa dirà e credo l'unica speranza per un'effettiva azione in quella direzione perché badate che i 4 miliardi che ha proposto l'amministrazione Biden non sono soltanto denari creati dal nulla dalla Federal Reserve ma sono anche un forte aumento delle tasse sulle imprese e sui patrimoni più grandi quindi come dire progressiva nel senso anche auspicato da Picchetti questa mi sembra se si conferma se gli Stati Uniti vanno in quella direzione e si portano dietro i grandi altri paesi industriali potrebbe essere effettivamente un cambio di direzione abbastanza significativo anche se non dobbiamo come dire porre aspettative troppo elevate su un radicale cambio dello scenario grazie Miria Maiello Buonasera a tutti in origine io le avrei voluto chiedere quanto la la rivoluzione digitale abbia invalidato il postulato costruito da Hayek chiaramente in chiave antistatalista e antisocialista della conoscenza dispersa ma ha ovviamente già affrontato l'argomento in qualche modo mi sembra anche che la privatizzazione della tecnologia digitale in qualche modo abbia fatto sì che un postulato falso teoricamente falso sia diventato praticamente vero quindi c'è questa paradossale eterogenesi della in questo postulato quindi le chiedo piuttosto quanto il progetto da lei ho spiegato di un controllo democratico della tecnologia che come lei ci ha illustrato si dovrebbe confrontare con il se il come e il cui protest dell'allargamento di una tecnologia su larga scala a fronte dei bisogni sociali effettivi quanto appunto questo progetto di controllo democratico non chiami anche almeno potenzialmente in ballo un discorso più ampio di confronto democratico sui bisogni dove la tematica del bisogno la teoria dei bisogni mi sembra un terreno sostanzialmente caduto sotto silenzio da almeno qualche decennio e curiosamente venuto o meno insieme alla recessione di tutti quei progetti politici che immaginavano un'alternativa a un modo di produzione capitalistica se ha qualche riflessione su questo grazie la ringrazio sono d'accordo che riflettere sui bisogni è proprio uno degli obiettivi che dobbiamo porci democraticamente l'unica osservazione che aggiungo è che chi si è occupato un po' del coinvolgimento dei cittadini nella produzione scientifica quindi quella che gli anglofili chiamano citizen science ma che vanno molto indietro nel tempo insomma modalità di produzione della scienza che non siano quelle tradizionali hanno messo in evidenza come il coinvolgimento dei cittadini anche nell'attività scientifica sia particolarmente utile proprio perché interrogando i cittadini dialogando con i cittadini è particolarmente efficace nel capire i bisogni e le priorità cioè nell'interazione con i cittadini non è tanto una questione di aspettarsi che da loro possa avvenire la specifica soluzione o la specifica direzione di ricerca anche se anche questo può capitare ma è soprattutto identificare in quale direzione c'è la massima priorità da parte loro e questo è un aspetto che riguarda noi studiosi ma che ovviamente è una valenza democratica importante perché sempre Noam Chosky e tanti altri mettono in evidenza come i bisogni fondamentali dei cittadini americani per esempio un'assistenza sanitaria gratuita e così via siano assolutamente chiari e sostanzialmente non cambino da 70 anni e come siano sistematicamente disattesi dal sistema democratico americano anche nel caso in cui la percentuale dei cittadini a favore è dell'80% tra l'altro bipartisan democratico repubblicano quindi non si tratta soltanto di identificare i bisogni che è un passo importante come abbiamo detto poi dobbiamo anche chiederci come fare a superare il fatto che negli Stati Uniti ma non solo negli Stati Uniti l'avere identificato un bisogno e riscontrare che sia ampiamente diffuso non si traduce necessariamente in un'azione poi da parte del sistema democratico grazie mi viene sempre in mente quel passo delle leggi in cui Vladone distingue la medicina degli uomini liberi dalla medicina degli schiavi il medico degli schiavi da un colpo d'occhio fa la diagnosi e prescrive la terapia e lo manda via il medico dei liberi discute con il malato si confronta e decidono insieme la strategia terapeutica e forse anche se sono passati 2500 anni non è che Platone stia dicendo abbia detto una cosa che oggi forse non valga la pena di essere ripresa ovviamente in condizioni del tutto diverse detto questo ogni tanto scusate non mi trattengo la mia pena professorale viene fuori Chiara Cerbone grazie per la parola grazie al professore per la sua interessantissima lezione anche oggi io avrei una domanda su un diciamo un aspetto che abbiamo toccato solo tangenzialmente cioè l'utilizzo della tecnologia per in qualche modo consolidare la democrazia e mi spiego meglio secondo lei nell'ambito delle democrazie consolidate che oggi attraversano una crisi che diciamo è palese e che ha provocato quell'andata populista la tecnologia potrebbe aiutare la democrazia ad uscire da questa crisi e quindi nella misura in cui potrebbe riuscire ad avvicinare i cittadini alle istituzioni oppure secondo lei sarebbe irrilevante l'utilizzo della tecnologia in questo campo e la ringrazio sì sono io che la ringrazio allora lasciatemi citare ancora Stefano Rodotà perché Stefano Rodotà tra le altre cose si è proprio occupato del rapporto tra tecnologia e democrazia anche nel senso di tecnologia al servizio della democrazia ha scritto un libro molto bello chiamato Tecnopolitica che chissà se la terza ha poi repubblicato non lo so e comunque lui vedeva uno spazio interessante perché come sapete Stefano Rodotà auspicava delle forme come dire più compiute di democrazia quindi un rifiuto della democrazia formale e una partecipazione più attiva in realtà lui aveva coniato questo termine di democrazia continua che poi dice che aveva abbandonato perché l'acronimo era DC e quindi non andava molto bene però democrazia continua nel senso appunto una partecipazione tra un'elezione e la successiva e ovviamente riscontrava che la tecnologia in particolare le tecnologie digitali potevano essere un grande aiuto per questa partecipazione quindi ancora in un contesto di democrazia prevalentemente rappresentativa lui ricordava che la nostra stessa costituzione ha degli elementi di democrazia diretta i referendum le petizioni le proposte di iniziativa popolare e quindi si immaginava una possibilità per rafforzare il dialogo con i rappresentanti una facilitazione nella presentazione di legge di iniziativa popolare insieme a tutta una serie di iniziative senza come dire sovvertire l'impostazione prevalentemente rappresentativa quindi era scettico come dire del dire decidiamo tutto online non c'è più bisogno di rappresentanti tanto è più che scettico critico quindi a questo punto di vista sì riscontro che ci sono stati esperimenti più che esperimenti cose anche ben assestate in Svizzera dove c'è un'antica tradizione di partecipazione con referendum popolari un po' in Estonia che però è un paese veramente molto piccolo che insomma è stato preso come modello però veramente un posto molto insomma non facilmente comparabile a grandi nazioni come l'Italia quindi alcuni esperimenti concreti di fatti anche a livello cittadino ci sono delle esperienze interessanti di nuovo Barcellona Amsterdam e alcuni altri posti quindi anche esperimenti di successo interessanti ci sono se dovesse chiedermi a me nel 2021 dopo ormai parecchi anni che discutiamo di queste cose quanto è stato l'impatto è stato un impatto limitato fino adesso e quindi dovremmo cominciare a chiederci perché è stato limitato capire quali sono state le forze che hanno opposto resistenza alcune totalmente conservatrici del tipo l'impostazione è quella democratica tradizionale rappresentativa si vota ogni cinque anni tutto il resto è populismo per usare la parola che ha evocato lei e quindi superare queste posizioni per provare ad articolare qualcosa di più esteso che abbia un impatto maggiore badate che per farlo sono richiesti comunque capitali perché comunque la tecnologia richiede capitali e quindi si pone un problema molto più ampio di dire ma come facciamo dove sono i partiti dove sono i finanziamenti in un momento in cui da qualche anno in Italia come sapete è stato addirittura abrogato il finanziamento pubblico ai partiti che è stata una scelta profondamente contro l'idea di democrazia che sta emergendo da questa conversazione grazie Luis Miguel Selvelli Sì ecco e allora volevo intanto sempre grazie volevo sia tornare un po' sulla mia domanda di ieri più unirmi al cioè volevo un po' anche la domanda di Matilde Ciolli se non sbaglio più o meno mi ha mi ha un po' coperto certe cose che volevo dire sono d'accordo diciamo sul suo punto di vista sul suo punto questo pessimismo diciamo devo dire che alla fine delle tre lezioni se ero pessimista prima adesso che ne so un po' di più mi sento ancora più pessimista purtroppo cioè mi sembra che l'intervento diciamo riformista che lei su cui lei in un certa misura anche sul lungo termine diciamo invece manifesto un certo ottimismo mi sembra sinceramente difficile da percorrere perché per l'enormità degli attori che sono in giro che sono da un punto di vista globali dall'altro punto di vista non c'è cioè sembra non esserci proprio un terreno di di conflitto sociale cioè noi non siamo non era uno pensa alle lotte che si face che sono sempre fatte fino a 20-30 anni fa diciamo di conflitto sociale c'era anche se c'era c'era il privato c'era c'era le industrie c'erano i sindacati c'era un terreno un terreno comune diciamo su cui un linguaggio qualcosa su cui operare ora c'è uno dice lottare contro Amazon contro Google contro Facebook uno dice puoi boicottare ma nel senso qual è qual è la nostra capacità di diciamo di contrattuale la nostra forza contrattuale con questi con questi colossi quindi dall'altro punto di vista ok sono d'accordo invece quello qui sembra quasi che e questo mi sembra anche quello terribile avere fiducia negli Stati Uniti cioè che il governo statunitense invece arrivi un governo adesso abbiamo Biden ok ovviamente meglio di prima sinceramente non riesco a avere questa ok magari farà appunto degli interventi riformisti ma non penso anche se scorpora parzialmente Google anche se fa pagare più tasche ma da quello che capisco e vorrei anche cioè così vorrei sentire il confine più utopico o più idealista che lei ha da proporre cioè provo a dire provo a proporre cioè no proporre ma immaginare che tutto avessero più la cosa tuttopistica anche per magari darci un po' di temi di discussione per domani quando avremo il dibattito che non so bene in che forma si filupperà ma sarebbe possibile invece ho due domande diciamo che gli Stati Uniti va al governo andasse a governo Sanders non penso che avrà più l'età ma andasse a governo un orientamento politico un presidente e tutto il congresso a favore il più socialista possibile cosa cioè quale dovrebbe essere a parte tutti questi interventi riformisti cioè invece l'intervento più radicale che si potrebbe fare cioè proprio l'espropriazione di Google diciamo l'espropriazione di Facebook la nazionalizzazione non la socializzazione cosa perché anche quello mi interessa cioè per dire questi silos di data che Google che Facebook che Amazon hanno e non solo però anche poi il metadato quindi da un lato tutti i dati che hanno stimolato in tutti i 30 anni come lei dice ma dall'altro lato tutto invece il metadato e quindi tutte quelle informazioni in quel modo sono state lavorate come dicevamo ieri alla luce della Zubo quindi tutto quello che hanno appreso a livello di conoscenza delle dinamiche sociali quelle cose lì cosa bisognerebbe fare distruggerle cioè a livello l'utilizzo appunto cioè bisognerebbe distruggere tutte quelle informazioni perché come dire sono pericolose a prescindere quindi anche facendo riferimento al fatto di se 25 anni fa ci fosse stato chiesto cioè agli Stati Uniti o se ci fosse stato il dibattito pubblico le tecnologie di accumulazione di dati quindi erano una cosa che non si doveva fare quindi se ci fosse la possibilità ora sarebbero da distruggere tutti questi dati e i metadata oppure in mano al governo più socialista e democratico possibile avrebbero una funzione appunto quello che le ha detto tecnologia e socialismo quindi restituire tempo alle persone questo mi interessa cosa cioè questi dati queste cose potrebbero avere in che modo io non riesco a immaginarlo ma esiste uno scopo di questo tipo diciamo socialista democratica poi chiudo invece l'utopia massima si può immaginare un sistema operativo cioè un android un google un amazon diciamo delle nazioni unite cioè per dire il livello più radicale possibile in mano a un'organizzazione internazionale pubblica non so ecco questo mi viene in mente proprio per pensare perché a me è sempre sembrato che come dire i piccoli interventi purtroppo la realtà è così negativa che con i piccoli interventi positivi poi si ricale così mi piace cercare di immaginare il massimo per poter ritrovare una via di meglio la ringrazio grazie a lei per questa considerazione per queste domande allora un domandone osservazioni impegnative condivido con voi quella che la mia analisi del momento storico che viviamo che è un'analisi che inevitabilmente non può indurre una particolare allegria perché viviamo una fase storica dove dobbiamo registrare una sconfitta assolutamente epocale in cui sono stati tirati indietro di decenni conquiste che erano state conquistate dalle generazioni precedenti quindi con la rivoluzione neoliberale la contro rivoluzione neoliberale con la caduta dell'unione sovietica che comunque rappresentava un'alternativa di sistema che comunque ha influito su un certo comportamento come dire più socialmente sensibile da parte del capitalismo di questi ultimi trent'anni sono trent'anni di clamorose sconfitte che variano da paese a paese per cui la Germania non è la stessa cosa della Svizzera o dell'Italia però sicuramente generalizzata è una sconfitta dei lavoratori molto molto seria e quindi la prospettiva temporale che dobbiamo darci se siamo come dire non contenti della situazione attuale è letteralmente decenni cioè per alcune cose sembra di essere tornati al 1850 senza esagerare senza cadere poi necessariamente nel come dire un disfattismo in un catastrofismo perché oggettivamente poi i bambini che lavorano in fabbrica non ci sono eccetera eccetera comunque è una sconfitta storica molto importante da cui non si uscirà sicuramente in tempi rapidi perché va fatto tutto un lavoro di ricostruzione molto faticoso che è costato tantissimo alle generazioni precedenti e che dovremmo rimettere in campo noi e quindi faticare tantissimo anche noi quindi da questo punto di vista dobbiamo riattivare parlavo di immaginazione tecnologica dobbiamo riattivare una forma di immaginazione oltre che di riflessione filosofica politica eccetera per capire nel nostro contesto storico quindi questo specifico contesto storico e guardando i prossimi 50 anni che cosa vogliamo fare io non ho ovviamente la soluzione in tasca però non a caso ho voluto introdurre almeno due slide per almeno accennare una possibilità di un socialismo democratico Martin Haglund che tra l'altro è un letterato un filosofo ha provato a fare una sua proposta appunto molto come dire principi rinunciabili che secondo lui dovrebbero avere delle forme di socialismo democratico poi tutte da progettare concretamente tutte da progettare e quello se che da me è il mio orizzonte ideale che so benissimo che non è neanche tra dieci anni forse neanche tra venti va costruito costruito intellettualmente come studiosi indipendenti o accademici e poi costruito politicamente ci ho detto comincio a vedere la fine della mia vita per cui non mi accontento semplicemente di dire provo a pensare a cosa potrà essere tra 50 anni ma mi chiedo anche concretamente adesso che cosa quali direzioni incoraggiare o per le quali lavorare concretamente che possono rendere il mondo un po' migliore ed è assolutamente una cosa riformista e modesta che sicuramente non altera le dinamiche complessive perché ci vuole costruire una società diversa per alterarle in maniera radicale radicalmente differente quindi qualcosa che vada chiaramente al di là del capitalismo per come l'abbiamo conosciuto in questi almeno in questi ultimi 200 anni per la sua versione industriale diciamo e quindi se qualcuno mi dice ma l'amministrazione Biden non guardo assolutamente con particolare come dire lo guardo con un occhio molto distaccato e molto spero oggettivo ma se l'amministrazione Biden dice io sono a favore dei sindacati dobbiamo restituire forza e potere ai sindacati ha proprio detto union ha detto davanti a tutti ma union man allora questo non è proprio totalmente trascurabile e se chiedete a me se sono contento sì sono contento perché veniamo da 40 anni inaugurati con Reagan che ha avuto come obiettivo fondamentale Reagan touch la distruzione dei sindacati quindi che il presidente americano dica I'm a union man I want to give power back to workers and to unions è modesto se vogliamo però è comunque importante perché grandissime conquiste si sono tenuti grazie ai sindacati che dobbiamo anche noi riscoprire nel loro ruolo all'interno anche di un sistema e poi i partiti perché appunto ha parlato dei singoli quali forze contattuali hanno zero zero o quasi zero sì mettiamoci insieme per boicottare Amazon per un giorno ma è totalmente l'influente quello che ci vogliono sono delle forze organizzate quindi come vi dicevo prima riscoprire la forma partito questo è un po' un tentativo di rispondere alla giusta osservazione anche con contenuto come dire giustamente stimolante provocatorio che le darei io bene anche se posso permettermi una chiosa lei stessa ha ricordato che ancora per produrre componenti essenziali i bambini nel Congo scavano e sappiamo tutti che magari giusto non è nell'occidente più evoluto che la forza lavoro minorile sfruttata ma se estendiamo lo sguardo globale in un'economia globalizzata le cose non sono poi così positive molto giusto donato a Liberti allora io direi con due ultime domande chiudiamo questo incontro se non deve intervenire Pietro Ilcolano che mi sembra abbia fatto solo una osservazione sul potere sovranazionale dunque donato a Liberti prego professore grazie grazie veramente per questi suoi tre queste sue tre lezioni veramente molto stimolanti no io le volevo chiedere se diciamo lei pensa che l'alternativa possibile che ci immaginiamo passi sostanzialmente attraverso uno shock per esempio attraverso un'eccezione smittinamente intesa oppure se c'è una possibilità di diciamo di scavare di man mano riformare questo assetto le dico questo perché a me sembra che diciamo anche da parte degli interventi che mi sono preceduti e che hanno detto gran parte di quello che volevo dire ci siamo messi in un bicolo cieco che dinanzi al quale sembra difficilissimo tornare indietro per esempio la teoria dei piloti automatici secondo cui il mercato è da padrone lo stato deve adeguarsi è oggi quanto mai quanto mai imperante e quindi mi chiedevo se questo non ci porta sostanzialmente a scontrarci prima o poi dinanzi ad una ad una eccezione veramente come momento azzerante e costitutivo e poi le volevo chiedere se invece se fosse possibile la seconda alternativa immagino che la sua risposta sia positiva se sia possibile immaginare o meglio utilizzare il concetto di proprietà pubblica come categoria giuridica per risolvere alcuni problemi per esempio mi sembra che nell'estate del 2020 un'ulteriore come dire botta negativa ci sia stata grazie alla costituzione di una società privata alla quale si è stata affidata la gestione della fibra ottica società nella quale l'Italia o meglio la cassa depositi e prestiti che è stata poi privatizzata detiene semplicemente il 9% del capitale quindi mi chiedevo se mai fosse possibile la realizzazione di questa utopia se il concetto di proprietà pubblica può funzionare o lo ritiene utile grazie scusate direi molto concisamente che direi che si sta da questo punto di vista un altro cambiamento di questi ultimissimi anni e anche proprio di quest'ultimissimo anno di pandemia e la riscoperta del ruolo dello Stato anche in Italia dove è stato visto come un tabù e dove è stata ridotta a macchietta del tipo è ma allora l'Italia è ma allora l'Ilva e si effettivamente si sta scoprendo anche da parte di persone che hanno sostenuto posizioni molto differenti che invece lo Stato può avere un ruolo lei ha citato Cassa di Appositi Prestiti che effettivamente sta avendo un ruolo nel realizzare delle politiche pubbliche quindi sì ritengo che sia possibile che sia capitando che si potrebbe fare anche di più devo chiedervi soltanto di interrompermi soltanto per un minuto scusatevi raggiungo tra un istante benissimo ne approfitto per dire allora Roberto Chiodo vuole intervenire e vorrei far chiudere a Wolfgang Kaltenbacher magari chiudiamo le due domande se siete d'accordo grazie mi scusi avevo dimenticato di inserire il discorso di tutta una serie di pagine fasulle che circolano appunto sulla rete e che prendono posizioni a favore di una cosa o dell'altra per spostare appunto le persone insomma quindi questa possibilità di manipolazione insomma e l'utilizzo anche di linguaggi pesanti sì ora però siamo proprio in chiusura lei d'altronde la sua domanda l'ha fatta però certamente questo è un tema importante di cui si dibatte effettivamente oggi dato che ci siamo Wolfgang vuoi ricordare Borsisti l'appuntamento di domani alle 10 mi sembra Wolfgang c'è il microfono spento scusatemi allora stavo dicendo domani alle 10 quindi magari se mi inviate sull'indirizzo di Borsi di Studio la vostra proposta dei interventi di domani abbiamo detto non più di quattro persone perché altrimenti non ce la facciamo a discutere grazie anche perché i temi sono grossissimi eccomi scusate stavo dicendo si è inserito all'ultimo un'altra persona quindi le propongo di raccogliere le due domande così chiudiamo sì va bene allora Roberto Chiodo salve innanzitutto grazie professore per le lezioni sarò velocissimo non ho proprio una domanda più un'impressione che mi è venuta sia dalle lezioni che dagli interventi fatti nelle slide lei ha presentato c'è una frase che mi ha colpito la privacy è morta effettivamente pensando più che morta credo che il senso comune tra la gente ovviamente non per Rodotà non per lei non per gli esperti e chi se ne occupa però tra la gente comune immagino che il concetto dei privacy sia rimasto a una concettualizzazione forse ottocentesca o novecentesca della privacy quindi se faccio un esempio scemo se mi viene qualcuno nel giardino di casa mi fa una fotografia o è simile e invece legata al fattore appunto digitale tecnologico che siano social cellulare tutte le declinazioni del caso possibile mi sembra che non sia neanche percepita come problematica quella della privacy e qua collegandomi a un intervento che è stato fatto da una ragazza non ricordo il nome sulla politica del bisogno e qua viene il mio problema la mia criticità se neanche tra appunto la gente comune tra le persone è percepito una necessità e un bisogno come si può poi agire a livello politico in questo caso rimanendo nel tema dei dati se tra gente comune il senso comune neanche riflettiamo appunto sull'utilizzo delle tecnologie dei social e dei cellulari e quindi alla problematica della privacy perché siamo rimasti a crismi appunto ottocenteschi o nonocenteschi senza allungare il discorso come poi si può anche mi vedo solo in questo tema porlo come un tema politico su cui a fare affidamento verso la politica era questa la domanda o l'impressione che avevo avuto Wolfgang sì allora anch'io dico innanzitutto grazie per questi seminari che sono così utili per noi perché ci danno alla mano gli elementi per ragionare con più connessione sulla rivoluzione digitale allora abbiamo sentito molto su sull'America sull'Europa sulla Cina mi mancano ancora due paesi la Russia e l'India due paesi con problemi diversi nel caso della Russia sappiamo che non sono riusciti a sostituire l'economia che si basa principalmente sulle materie prime l'India ce l'ha altri problemi ma comunque sono due paesi con con una grande tradizione scientifica l'Accademia Russia delle Scienze è stata una delle istituzioni più grandi al mondo e nonostante che Putin ha cercato di smantellare queste istituzioni ancora una grande istituzione importante la stessa cosa possiamo dire sull'India ha una grande tradizione nella matematica nell'informatica Bangalore viene sempre considerato come una delle più grandi fabbriche di matematici di informatici allora la mia domanda semplice è in che cosa sono rimasto indietro questi due paesi ok rispondo alle due domande giusto sì allora riguardo alla prima è chiaramente importante quello che abbiamo provato a fare anche in questi seminari cioè far capire alle persone si parlava delle scuole secondarie superiori prima ma più in generale fare un'opera di divulgazione per far capire come funzionano le tecnologie digitali quali dati vengono raccolti sulle persone quali fini e così via proprio per superare un senso comune che non so se è ottocentesco o novecentesco ma è sicuramente un senso comune poco informato e credo che dovremmo fare leva e un po' sta cominciando a succedere sul fatto che delle conseguenze tangibili concrete di questa raccolta dati perché fino a quando le persone dicono va bene spiano su di me ma è solo per farmi vedere delle pubblicità sui miei interessi è ovvio che non noteremo mai nulla perché la maggior parte delle persone direbbero e qual è il problema ma nel momento in cui le persone non ottengono un'assicurazione o non ottengono un mutuo o non ottengono un lavoro e fanno la connessione che questo è avvenuto per dei dati in possesso del potenziale della potente dell'impresa o dell'assicurazione e così via se fanno quel collegamento quindi cominciano a vedere il collegamento diretto sulla loro vita sui loro interessi allora può darsi che quel punto la loro posizione nei confronti della tutela dei dati personali cambia anche molto radicalmente anche piuttosto in fretta è sicuro che si fanno tutti gli sforzi possibili per tenere il meno palesi possibili questi collegamenti però progressivamente capiteranno quando anni fa esperti amici esperti di questo settore mi dicevano che Facebook vendeva i suoi dati alle assicurazioni allora è solo questione di tempo prima che la gente cominci a rendersi conto dell'impatto di queste informazioni vendute ad attori che possono avere un impatto sulla propria vita per quello che riguarda Russia e India sono o so molto poco nel senso che so quello che ha già detto lei aggiungo soltanto che la Russia anche in questo settore ha dimostrato di comprendere bene l'importanza di una di forma di sovranità tecnologiche diciamo quindi sappiamo la Russia ha dei problemi economici non trascurabili è una grande tradizione scientifica però ha capito che il digitale esattamente come l'aveva capito la Cina il digitale è cruciale per preservare una forma di sovranità e quindi nel corso degli anni ha preso varie misure per esempio ben prima dei paesi europei ha chiesto che i data center fossero fisicamente presenti sul territorio russo ha imposto delle cose a Apple che ha accettato e se ne è avuta pochissima eco sui media occidentali anche di recente faccio un esempio di cui si discute molto da anni il fatto che Apple sia riuscita a far passare ed è ancora così dal 2007 che le applicazioni installabili sopra l'iPhone siano gestite direttamente da un unico negozio di cui lei ha il controllo il cosiddetto App Store è francamente totalmente sorprendente però nei paesi occidentali è riuscito a conservare questo monopolio da quello che leggevo di recente la Russia è riuscita a intervenire a costringere a trovare un accordo con la Apple perché questo cambiasse almeno in parte sul territorio russo quindi mi sembrerebbe da dire ma non stupisce nessuno che la Russia come un paese che insomma abituato da molto tempo a ragionare sulle varie declinazioni della sovranità ha capito anche l'importanza di almeno esercitare un po' di sovranità sullo spazio digitale anche con aziende proprio perché voi sapete che in Russia il motore di ricerca principale è Yandex e non è Google e quindi hanno sviluppato anche dei propri campioncini nazionali dico campioncini perché come dimensioni non sono paragonabili agli americani e ai cinesi sull'India oltre alla tradizione anche tecnologica l'India per esempio è tutta una serie di politecnici molto prestigiosi che sfornano dei ingegneri di ottima qualità che poi tipicamente oltre a lavorare in India lavorano negli Stati Uniti e in giro per il mondo conosco un po' l'aspetto della difesa dei diritti digitali diciamo perché conosco un po' le persone che se ne occupano ma sul resto mi fermo perché non ho abbastanza informazioni per dare dei commenti interessanti per voi comunque grazie per la domanda ha stimolato la curiosità allora io la ringrazio veramente di cuore di queste tre bellissime lezioni tra le altre cose in chat come forse ha potuto vedere sono arrivati molti complimenti e molte diciamo così giudizi sulla grande positività di questo nostro incontro faccio mie devo dire le parole almeno di una di coloro che ci hanno seguito Angelina Di Lunzio che scrive grazie per la sua passione per la democrazia sostanziale questo mi sembra una cosa molto molto bella e molto importante quindi la ringrazio e spero davvero di riaverla tra noi a Napoli e a parlare di queste cose che ci appassionano perché ci appassiona tutti poter vivere in modo più libero e più uguale e più ricco quindi aggiungerei anche moltissime grazie professore sono io che vi ringrazio sono ringraziamenti davvero non di circostanza che mi ha fatto molto piacere sia provare a prepararmi in questi mesi in vista di questo incontro che ho colto come anche una bella opportunità per ritagliare un po' di tempo in giornate spesso frenetiche per cui grazie per questo appuntamento che ho provato a coltivare un po' nei mesi scorsi e poi anche grazie per la discussione perché vi devo dire mi capita ormai da anni di fare molti interventi di confrontarmi con molte comunità non esito a dire non lo dico solo perché siete collegati con me in questo momento che le discussioni che hanno seguito le lezioni sono sicuramente tra le più ricche le più belle che mi è capitato di sperimentare in questi anni grazie molte veramente grazie grazie a tutti e a presto grazie grazie di nuovo a tutti allora noi ci vediamo con i borsisti domani alle 10 arrivederci buona serata arrivederci grazie a tutti arrivederci buona sera